Un dipendente non testimonia facilmente contro il proprio datore di lavoro, neanche se le informazioni di cui è a conoscenza potrebbero avere un impatto significativo sulla tutela giudiziaria dei diritti di un proprio collega. Quest'ultimo però potrebbe acquisire le dichiarazioni in altro modo, attraverso ad esempio la registrazione di una conversazione privata fatta senza consenso e di nascosto. Similmente potrebbe acquisire le prove fonografiche anche durante le discussioni avute con i propri superiori. Ma è legittimo un comportamento del genere o integra un reato? Cosa dice la legge sul registrare le conversazioni sul lavoro? Questa è la legge! Sulla possibilità di registrare le conversazioni di lavoro si è più volte espressa la giurisprudenza e il risultato delle pronunce è abbastanza scontato. Un dipendente può utilizzare le registrazioni di conversazioni dei suoi colleghi effettuate senza il loro consenso se questo uso è necessario per la tutela giudiziaria dei propri diritti. Questo principio in linea con l'orientamento prevalente della giurisprudenza è stato ribadito proprio di recente dalla Cassazione con l'ordinanza numero 24.797 del 2024. Naturalmente ci sono dei limiti all'utilizzo dei file audio contenenti le registrazioni segrete. Questi non possono essere diffusi a terzi, condivisi in chat o tantomeno pubblicati su un social come mezzo di vendetta personale. L'unico impiego consentito dalla legge è quello giudiziario, quale ad esempio l'allegazione a un ricorso dinanzi al tribunale di lavoro, l'esposto, la querela o la denuncia contro il datore di lavoro. Mi raccomando amici, le registrazioni fatte sui luoghi di lavoro sono legittime solo se colui che registra è materialmente presente alle conversazioni. Non può cioè lasciare un registratore ad esempio in una sala, riunioni o nel dialogo tra altri colleghi e andarsene via ingenerando tra i presenti la convinzione di non essere sentiti. In questo caso si commetterebbe il reato di illecite interferenze nella vita privata. Nel caso deciso dalla Cassazione, tre lavoratori coinvolti in contenziosi legati alle loro posizioni lavorative avevano presentato in tribunale un file audio che documentava una conversazione avvenuta anni prima durante una riunione aziendale tra un altro dipendente e alcuni rappresentanti del datore di lavoro. I dirigenti che erano stati intercettati senza saperlo avevano fatto appello al garante della privacy chiedendo la cancellazione dei file. L'autorità aveva tuttavia respinto la loro richiesta. La questione è finita prima in tribunale che ha dato ragione ai soggetti intercettati e all'ultimo è finita in Cassazione che invece ha appoggiato l'interpretazione del garante dichiarando lecita la condotta della registrazione. Secondo questa sentenza, l'uso dei dati senza il consenso dell'interessato è legittimo quando serva a difendere un diritto fondamentale come quello appunto della tutela in tribunale di un lavoratore dipendente. Secondo la Corte, il diritto di difesa in giudizio non può essere compromesso specialmente quando la controversia riguarda diritti personali strettamente legati alla dignità umana come appunto la tutela dei lavoratori riconosciuta peraltro anche dalla nostra Costituzione all'articolo 36. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti iscrivetevi al mio canale, questa è la vera legge.